ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per aprire questi magneti che mi serviranno per il gioco di calcio che sto facendo con il cartone adesso li andiamo ad aprire perché mi servono che dovrò fare le aste le aste dei giocatori ecco qua i magneti dove sono tre magneti per parte qua sono un po di più sono 123 123 e 123 ce n'è uno in più ragazzi tre e tre uno e in più adesso andiamo meno male che ho preso mi ricordavo di avermi preso altri eccoli qua adesso che andiamo ad aprire anche così facciamo le cose in modo fatte bene ragazzi questo unboxing sarà diviso in un video solo quindi sarà un video unico eccoli qua quindi uno andiamo a togliere facciamo 3 e 3 1 lo si va a togliere eccolo qua quindi ecco qua che sono belli fatti e qua altri tre in modo tale che qui ci saranno le calamite perfette adesso andiamo noi ci vediamo nel video del campo di calcio ciao 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 ciao